Buongiorno a tutti, oggi vi propongo in affitto un appartamento a Città o Pavia e più precisamente ci troviamo dietro la stazione qua siamo in via Bricchetti, quindi è comodo per arrivare al centro oppure prendere la stazione dei treni si tratta di un bilocale primo piano con ascensore allora qua siamo all'ingresso all'ingresso ruotano tutti gli ambienti abbiamo un soggiorno questa qua è la cucina con la piastra elettrica più il forno qua abbiamo il letto ecco la cucina questa qua abbiamo il lavello più piastra elettrica e il forno e di sopra ci sono i ripiani dove poter mettere le stoviglie perfetto qua abbiamo il frigorifero e adesso andiamo a vedere il balcone qua ci troviamo in via Bricchetti però la faccia si trova su via Ambrogio da Fossano quindi è una via laterale e infatti lì vedete la stazione quindi diciamo che non avete rumore del treno diretto perfetto allora dopo aver visto il balcone andiamo a vedere gli ultimi due ambienti che sono il bagno e la camera da letto è apparentemente ideale per essere affittato a degli studenti questo è il bagno che hanno completamente ristrutturato negli anni 2000 inizio lì c'è il boiler elettrico perché qua l'acqua calda ecco l'elettricità ecco qua dentro abbiamo il gas poi il riscaldamento è un riscaldamento semicentralizzato perfetto adesso andiamo a vedere la camera da letto che è questa camera da letto matrimoniale è adatto ad essere affittato a uno studente o a una coppia di studenti ok quella scrivania quel tavolo verrà sostituito con una scrivania qui c'è la presa per internet ok e questa qua è tutta la camera con la libreria e l'armadio per i vestiti se siete interessati chiamatemi al 339 1916 332 allegrone immobiliare e l'armadio per i vestiti Grazie a tutti